la Ok allora facciamo ci cercheremo, ci vediamo che è un bel super pochino Ehm, ci vediamo molto Ehm... Ehm, come узнаvo? Ehm, come siamo indagati? Ehm, come siamo indagati? Ehm, come in questo caso è un'ambiente, un piccola Cosa o un metallo? ho? En la gama un po' di la litro e un po' di me lo da poi con Gumpare, la risnogata la lago? La risnogata la lago? Oi, 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 l'entraccs Azzogu, merghi Nene, nene, nene Ho detgini Sì, non c'è nessuno. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Alla. Lascia me da bene.